Un caro saluto da Mario Giuliaci e agli amici di Vivere Pesaro. Che tempo farà in questa settimana e nel prossimo fine settimana? Bene, dal punto di vista dei fenomeni direi del tempo, nel senso sì, ci sarà qualche temporale pomeriggiano qua e là, ma a carattere isolante solo nelle zone interne. Dal punto di vista delle temperature, le cose andranno un po' peggio, perché farà fresco fino a mercoledì, perché arriveranno venti freschi da Balcana e le temperature quindi non solo saranno al di sotto della media, ma con l'effetto venti freschi, insomma, lungo la spiaggia non si sta a certa maniera, direi, gradevole. Ma poi a partire da giovedì una grande novità, perché le temperature riprenderanno a salire rapidamente, perché si affaccia sull'Italia e l'anticiclone nordafricano, tant'è che domenica prossima sono previste temperature intorno a 32 gradi lungo le coste e 34 nelle zone interne. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.